Un saluto a tutti dalla voce di Bruno Pizzul. Come tutti sapete, Roberto Mancini ha dato le dimissioni da tecnico della Nazionale Italiana. Quindi la FIGC ripiega su spalletti, ma è impegnato con il Napoli. De Laurenti si rompe sulla trattativa con la FIGC ed è a ruota libera. Dopo la valanga di considerazioni astratte, comprese su molti media, svolte autorevoli, commentatori e operatori della comunicazione, ritengo sia necessario fare chiarezza sulla vicenda a Spalletti legata al suo possibile impiego come CT della Nazionale Italiana di Calcio. Ho sempre avuto grande rispetto per la Nazionale. Quando ero giovane, oltre al Napoli, era l'unica squadra che mi appassionava. Queste sono le parole di De Laurentiis. Un saluto a tutti, è tutto molto bello!